Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Segno 7. Stasera parleremo in genere di comunicazione, da TV, giornali, social network e qual è il suo futuro. Lo faremo in compagnia di Alessandro Bencini, esperto di comunicazione e scrittore tra l'altro. Buonasera Alessandro. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. E colgo immediatamente l'occasione per far vedere telespettatori l'ultimo lavoro di Alessandro, se la regia me lo manda in onda, che è La Zattera. Viaggio dentro la pandemia è l'ultimo libro scritto da Bencini qui con noi stasera. Due parole su questo suo lavoro. La Zattera è un riassunto, un condensato di tutti i miei interventi sul settimanale Toscana Oggi. Ed è un viaggio veramente dentro la pandemia, attraverso questi due anni che abbiamo vissuto intensamente di distanza, di distacco dalle nostre cose e dalle nostre abitudini. È un percorso in cui prendo il lettore per mano e insieme a lui cerco di fare un viaggio, un viaggio dentro un'esperienza che ci ha profondamente cambiato. Quindi ecco, iniziamo subito la serata con un comunicatore che attraverso il suo lavoro prende per mano proprio il lettore e l'accompagna alla scoperta delle varie realtà che nei due anni di pandemia ci hanno tutti segnato. La puntata di stasera è verta sulla comunicazione e vorrei aprirla con due immagini significative che, se la regia me le può mandare in onda, che è l'incontro di Papa Francesco e sua santità Kirill, patriarca di Mosca e della Russia. L'incontro che voleva affrontare il tema della pace in questo momento difficile. Ecco, due immagini che chiaramente ci indicano la strada della comunicazione oggi. Alessandro, che ne pensi? Sicuramente sono due immagini fortemente rappresentative di quello che è la comunicazione di questi giorni, di questi tempi. È una comunicazione che è distante ma nello stesso tempo cerca di creare quei legami, quei ponti che ci permettano di ricucire questa storia che troppo spesso ci appare frantumata. Mai come in questo momento, un momento in cui il conflitto bellico ci pone questi grandi interrogativi. E il Papa, con questo gesto, con queste immagini, ci dice che è possibile creare un ponte, un ponte di relazione che ci permetta di andare oltre anche le difficoltà presenti. E questo ce l'auguriamo tutti. Certamente. Ecco Alessandro, quindi il valore dell'incontro, che possiamo dire è una riflessione della comunicazione a distanza, questo oggi ci può aiutare, una modalità sicuramente nuova e comunque diversa rispetto a come eravamo abituati prima, anche solo vedere queste immagini. Questo cosa ne pensi? Ci può aiutare per il futuro? Può essere una strategia? Questa è la comunicazione del futuro? Sicuramente è una parte della comunicazione. Certo, in questi anni siamo stati quasi costretti a scoprire un aspetto della comunicazione che ci era totalmente estraneo. La comunicazione però è anche fisicità, contatto. È tutto quello che va sotto la parola relazione. La comunicazione ha bisogno di scambi, di sguardi e anche di poter respirare insieme il clima all'interno di uno stesso luogo, una stessa stanza. La comunicazione che ci aspetta quindi è un mix di queste cose, è un qualcosa che si fa a distanza ma che ha bisogno assolutamente di vicinanza. Pensiamo ad esempio al termine che abbiamo coniato, comunicazione a distanza, che di per sé è qualcosa che non va a braccetto ma quasi è uno simolo. Dentro ci stanno tutte le domande che in questo momento ci stanno davanti. La scuola è pronta per una comunicazione a distanza, la formazione dei nostri ragazzi è pronta per una comunicazione a distanza. È quella la comunicazione giusta che dobbiamo mettere in atto per poter far crescere i nostri ragazzi, non solo dal punto di vista delle competenze, ma come persone in grado di fare passi importanti nella maturazione della propria vita. Sono queste le domande che ci stanno davanti e queste le risposte a cui dovremo dare voce nel breve periodo e nel prossimo futuro. Bene Alessandro, vorrei presentare prima l'ospite che ci accompagnerà nei servizi, che è il professor Marco Sanavio. è docente di comunicazione all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, si occupa di temi legati alla pastorale e al digitale, autore di Generazioni Digitali, San Paolo 2018, e di altri saggi sulle interconnessioni tra tecnologia e formazione. Quindi vediamo appunto di Sanavio il primo servizio sullo stile comunicativo del Papa. Sicuramente c'è una nota molto semplice, comune, che avrete notato nel modo di porsi di Papa Francesco, che è il suo saluto, quando lui si è presentato la prima volta e quando lo fa in molte occasioni, saluta dicendo buonasera, dicendo buongiorno, e non con il saluto ecclesiale, ecclesiastico, sia lodato Gesù Cristo, che era tipico magari di altri pontefici o di altri contesti. e con questo Papa Francesco probabilmente vuole far percepire una sua vicinanza e una sua umanità che traspare anche dal ruolo che lui ricopre, dal magistero che lui ha e dal ministero che svolge nei confronti della Chiesa. Papa Francesco desidera accorciare delle distanze e penso che con molti gesti che lui ha fatto in maniera concreta, che sono atti comunicativi veri e propri, lo dice padre Antonio Spadaro, che è un fine analista, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, ha dedicato proprio un'ampia analisi sugli atti comunicativi di Papa Francesco, dicendo che quando lui si inginocchia a lavare i piedi di un detenuto, dice molto di più di quello che quel gesto rappresenta, cioè il valore simbolico trascende il gesto stesso e passa nei nostri cuori come un gesto estremamente potente dal punto di vista emotivo, simbolico, empatico. Eccoci Alessandro, dopo questo primo servizio ti faccio questa domanda. La comunità cristiana oggi ha bisogno di nuove forme di comunicazione, di avvicinarsi di una Chiesa e si rimette in gioco in base ai tempi e alle necessità del periodo per mettersi in cammino insieme. Quindi qui parliamo di sinodo sul quale la Chiesa ha molto lavorato negli ultimi anni e a cui lo stesso Papa Francesco ha lavorato. Ecco, una tua riflessione su questo Alessandro. Non c'è dubbio che questo momento per la Chiesa sia un momento importante, come tutti i sinodi che richiamano l'aduranza, la capacità di mettersi intorno a un tavolo e di poter discutere del cammino passato e di quello che ci aspetta. Mi piace però immaginare il sinodo prendendo a riferimento la definizione astrologica del sinodo come quella capacità di congiuzione tra gli astri perché richiama quella modalità a cui siamo abituati quando facciamo per esempio le settimane enigmistiche, cioè di mettere insieme i puntini per raggiungere poi una nuova immagine. Ecco, io credo che sia questo il momento in cui la Chiesa e tutta la comunità cristiana è chiamata a rimettere insieme questi punti e a dare vita ad un'immagine, un'immagine comunicativa di quello che vorrà essere nel futuro e di quanto questo presente possa essere modificato con la capacità di riflessione che sarà in grado di generare. La comunicazione c'entra, c'entra e come, perché da come riusciremo ad essere comunicativi e da come la Chiesa riuscirà ad essere in grado di trasmettere nuove idee e nuovi percorsi e quindi deriverà anche la capacità che avremo di definire, di seminare nuova terra e riuscire a raccogliere nuovi frutti. Alessandro, il professor Sanavio è docente di comunicazione, quindi vorrei vedere con te adesso un breve servizio su quello che è appunto la comunicazione e il digitale. Vediamolo insieme. Ma per tornare a queste tre parole, Papa Francesco, Reti e Sinodo dei Vescovi, penso che sia importante oggi il digitale per un ascolto profondo anche della base della comunità cristiana e forse anche di quelli che da tempo magari sono battezzati e da tempo non frequentano o da quelli che non sono cristiani. Se mi hai permesso, cito brevemente un esperimento fatto all'Università Yusve, l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia presso il quale anch'io insegno e non molto tempo fa, insieme con un docente di teologia e della comunicazione, abbiamo fatto un esperimento di intelligenza collaborativa, ovvero abbiamo preso una piattaforma molto nota nei paesi di lingua spagnola che si chiama Delibera. I creatori di questa piattaforma ce l'hanno concessa per questo esperimento e abbiamo chiesto ai ragazzi che cosa consiglieresti tu oggi perché la Chiesa possa essere più vicina, più attenta alle tue esigenze, alle esigenze dei giovani. Ed è stata una grande sorpresa perché noi abbiamo premesso a questi ragazzi che nessuno di noi vi censurerà. Cioè purtroppo o per fortuna dentro questo esperimento non potrete essere anonimi perché è importante che ciascuno insomma si giochi con la sua persona. Però sappiate che l'esperimento resta chiuso qui dentro e che tutto quello che uscirà non uscirà sicuramente con il vostro nome ma non temete, siate coraggiosi nel dire ciò che pensate senza censure che saranno solo le vostre nel caso le applicate. E l'esperimento è stato interessantissimo perché i ragazzi hanno manifestato tutti un sentimento positivo anche i non credenti. Ci ha avvicinato un ragazzo che ha detto io sono ateo, no? Però mi piacerebbe lo stesso contribuire a questa cosa e dire la mia opinione posso farlo ma certamente, guarda, scrivi tutto ciò che senti che il tuo cuore può suggerire di buono per questo esperimento. Questo era l'esperimento che il professor Sanavio ha fatto assieme ad alcuni suoi colleghi ma vorrei continuare prima di far intervenire nuovamente Alessandro vedendo un altro piccolo servizio del professore sempre legato alla comunicazione e al mondo digitale e poi faremo un commento successivamente. I mezzi di comunicazione digitali a partire dai dispositivi, cioè proprio dallo smartphone che teniamo in tasca, hanno cambiato i tempi della vita non sono soltanto reti sociali non rappresentano solo l'accesso alla rete sociale ma trasformano proprio concretamente le abitudini di ciascuno di noi e hanno realizzato quella che anche teologicamente è stata una delle aspirazioni di molti il poter essere in più luoghi contemporaneamente io sono originario di Padova a Padova uno degli aneddoti della vita di Sant'Antonio che si racconta una delle proprietà che gli si attribuisce è quella di essere in più luoghi contemporaneamente in due luoghi pur avendo un corpo fisico unico questo oggi noi lo possiamo fare perché ciascuno di noi è al lavoro e contemporaneamente riesce a tenere d'occhio qualche vicenda familiare riesce ad osservare i messaggi e le notifiche che passano sul suo telefono quindi le reti sociali trasformano l'antropologia trasformano i ritmi i tempi e anche le relazioni pensiamo a quante nostre relazioni vengono alimentate e purtroppo a volte addirittura fratturate attraverso i social la mia riflessione è un po' questa non possiamo più dire che sono soltanto luoghi virtuali che noi frequentiamo quando decidiamo di astrarci da questa dimensione in presenza ma sono un tutt'uno una costante membrana permeabile che ci permette di essere o connessi o attenti alla presenza o entrambi dice il filosofo della scienza Luciano Floridi che adesso insegnerà da quest'anno accademico anche all'Alma Mater a Bologna che lui ha coniato un termine specifico on life per dire che siamo online ma anche siamo nella vita Alessandro da come ci ha spiegato il professore oggi siamo in un mondo social che in un qualche modo lo dicevamo anche prima accorcia le distanze per poter comunicare anche all'altro capo del mondo ma allo stesso tempo noi ci sentiamo più soli c'è tanto social tanto comunicazione tanto smartphone direi anche oggi quindi tante chat tantissimi modi per comunicare in ogni dove però allo stesso tempo c'è questo problema di una solitudine lo si vede lo si sente spesso dire anche specialmente nelle nuove generazioni che pare un po' da una parte si annullano o affogano direi in questi social evitando appunto relazioni vere reali vissute ecco Alessandro come possiamo vivere noi queste nuove forme di comunicazione come possiamo aiutare i nostri giovani e quale pensi sarà il futuro per questo modo di comunicare eh sono sicuramente domande sfidanti che non possiamo non potremo esaurire in una riflessione di pochi minuti ma sicuramente potremo sforzarsi di definire un orizzonte entro il quale poi provare a gestire questa grande massa di nuovi strumenti di comunicazione di cui anche te giustamente parlavi ed elencavi il professore ha detto una cosa molto importante a mio modo di vedere cioè dice che sono tutt'uno e con questo essere tutt'uno si riferisce al fatto che abbiamo i nostri ragazzi noi tutti quanti abbiamo nelle nostre mani il mondo all'interno del nostro smartphone quotidianamente abbiamo accesso al mondo e a tutto quello che il mondo porta con sé cioè le cose positive le cose negative la possibilità di perdersi e anche di ritrovarsi e ovviamente in questa attività che è prevalentemente un'attività di ricerca un'attività virtuale abbiamo anche la possibilità di perdersi cosa diventa fondamentale diventa fondamentale proibire la possibilità di utilizzare questi strumenti no diventa fondamentale la capacità che avremo e abbiamo di poter indirizzare l'utilizzo di questi strumenti nella direzione giusta e esiste solamente un percorso da fare e da perseguire in maniera urgente perché forse su certe cose siamo sicuramente in ritardo cioè educare educare all'utilizzo per educare all'utilizzo vale la regola un po' meno social e un po' più relazionale per ritornare a quello che dicevamo prima cioè la capacità di dotare le persone i nostri ragazzi i nostri giovani di quelle competenze di quelle conoscenze tali da poter distinguere se oggi se questa informazione è un'informazione giusta o se questa è un'informazione sbagliata è qualcosa che attiene sempre alla capacità di crescita personale e umana e si ritorna a ripetere ancora una volta l'importanza dell'educare durante la scuola la scuola che non diventa solamente un luogo di conoscenza tecnica ma un luogo di crescita e di formazione umana se noi saremo in grado di creare ragazzi capaci di guardare dentro di sé e a quello che sono probabilmente avremo anche la capacità di generare risposte adeguate a informazioni sbagliate altrimenti rischiamo di perdersi in quello che ormai appare evidente e molti studi ci lo confermano che solamente il 20% della popolazione è in grado di distinguere se una notizia è giusta o è sbagliata questo è un punto da cui ripartire per fare meglio dobbiamo fare meglio è urgente se pensiamo che giornalmente vengono pubblicati 322 milioni di tweet chiaramente capiamo che siamo sottoposti ad un continuo sollecitazione che richiede maturità e capacità di potersi porre in maniera matura e cosciente di fronte a tutta questa mole di informazioni Alessandro parlavi appunto di educazione per i giovani e quindi anche comprendere se quella notizia o quel modo di agire è giusto o sbagliato ora vorrei ascoltare un servizio che introduce un'altra problematica odierna della comunicazione che potremmo dire definire semplicemente fake news ma che sostanzialmente sono delle informazioni errate parzialmente vere o proprio sbagliate furvianti rispetto a determinate argomentazioni prima di commentare però vediamo insieme sempre il servizio del professore c'è purtroppo una scorciatoia mentale che noi utilizziamo spesso per fare meno fatica che si chiama bias di conferma ovvero noi andiamo a cercare in rete tutta una serie di notizie che confermano quelle che sono le nostre convinzioni e questo è un primo problema quindi io posso anche dare dei consigli su come andare alla ricerca della fonte ma spesso noi andiamo a bere alla fonte inquinata quella che ci dà ragione e quindi di fronte a questa scorciatoia a questo vizio di forma che abbiamo nel ricercare le notizie non ci sono tanti antidoti certo che adesso io non vado nel particolare perché stiamo trattando argomenti molto divisivi questi del del covid della guerra che in questo momento qui bussa le porte anche di casa nostra sono argomenti su cui purtroppo le persone anche all'interno degli stessi nuclei familiari delle stesse cerchie di amici si dividono e si contrastano in maniera molto aspra si tratta innanzitutto di adesioni molto viscerali a una visione della vita una visione di questi argomenti della ricerca di notizie che danno ragione a me e ripeto troviamo in rete tutta una serie di prove scientifiche pseudoscientifiche di prove di qualsiasi tipo fotografiche non fotografiche che alla fine vanno ad attribuire una credibilità a qualsiasi cosa io credo adesso faccio un esempio che sta fuori da quelli che abbiamo citato quello della terra piatta e può darsi che ci stia ascoltando qualcuno che crede che la terra sia piatta troviamo in rete non solo spiegazioni pseudoscientifiche rispetto a questa teoria ma troviamo persone che ci credono a tal punto da investire la loro professionalità il loro nome la loro reputazione i loro soldi e quando si tratta di metterci dei soldi vuol dire che la persona ci crede davvero però vi do questi consigli lasciamo perdere questi due argomenti che abbiamo citato e parliamo della ricerca della verità in generale su tutte le notizie che dice anche San Giovanni nel Vangelo al capitolo 20 la verità ci renderà liberi una delle dei consigli che possiamo dare a chi ci ascolta e ci guarda è andate alla ricerca il più possibile della fonte chi ha detto quella frase o chi o come è successo quell'evento se non vi fidate della stampa purtroppo oggi molti non si fidano più dei giornali che una volta avevano una certa autorevolezza anche molto diffusa potete comunque consultare le agenzie stampa che notoriamente insomma hanno un processo di verifica molto rigoroso l'ANSA per esempio per quanto riguarda il nostro territorio nazionale la DN Kronos la AG stampa oppure agenzie internazionali come la Reuters potete consultarle e potete andare a vedere che cosa dicono queste agenzie e poi io direi di non fidarsi mai ciecamente di tutto ciò che ci viene propinato io sono testimone ma perché è successo a me di persone che hanno messo in rete delle notizie false per screditare qualcun altro io ho visto la genesi di questa notizia falsa e ho visto un sacco di persone che conosco crederci in maniera proprio a prioristica cioè siccome davano ragione al loro punto di vista politico sociale alla loro visione del mondo senza nemmeno fare una verifica se la cosa era vera o inventata l'hanno presa e diffusa ecco io penso che oggi la ricerca della verità sia un'educazione alla quale anche il mondo eclisane non può più rinunciare dobbiamo aiutare le persone a percorrere questo sentiero la verità ci rende liberi diceva il professore però trovarla talvolta non è oggi semplice perché le informazioni sono tante oggi si parla e si tende a parlare molto di digitale mi viene in mente anche che la classica propaganda che c'è sempre stata fin dalla notte dei tempi forme diverse ma la sostanza non cambia insomma ognuno tira l'acqua al suo molino su quello che sono buffa le fakes eccetera eccetera oggi però abbiamo molto e molto è indirizzato anche alle giovani generazioni mi viene sempre in mente loro perché sono diciamo i massimi utilizzatori di questi strumenti quindi la verità ci rende liberi ma come possiamo districarsi in questo mondo di comunicazione social questa è la vera grande sfida il professore ce l'ha ripetuto in maniera puntuale richiamando uno degli elementi che è sempre stata la base sia del lavoro dell'informatore del lavoro del giornalista cioè l'attenta cura delle fonti se prima di poter mettere in giro una notizia il giornalista o l'informatore poneva attenzione massima nella cura dell'informazione che doveva passare oggi con gli strumenti di comunicazione di massa i social principalmente chiunque nelle condizioni di poter veicolare ogni informazione quella che in quel momento lo aggrada di più o può essere la cosa che più gli piace e condividere in questa grande giungla è necessario ritornare a quello che dicevamo prima cioè la capacità di essere adeguatamente formati ed avere adeguati anticorpi perché oggettivamente siamo dotati di una libertà importante e se la libertà è scegliere con talento le cose da fare e le cose da dire abbiamo una grande responsabilità soprattutto nei confronti di quelli che giustamente dicevi i nostri ragazzi i ragazzi che si trovano a maneggiare strumenti potenti con poca a volte consapevolezza Alessandro ormai siamo a chiusura quindi rapidamente vorrei però prima vedere l'ultimo servizio del professore che è sulle reti di comunicazione orizzontale e non piramidale vediamolo assieme oggi la rete ha creato una comunicazione molto più orizzontale non siamo più in una visione piramidale dove ci sono dei vertici che decidono per tutti ma c'è un desiderio di ascolto di sinodalità di fare tutti un medesimo cammino come dice la parola sinodo la stessa strada che non può prescindere da ciò che io scrivo in rete perché se io sono in una riunione in presenza e qualcuno mi tira fuori un argomento un po' scottante che io non voglio affrontare faccio finta di non aver sentito alla fine dico ok tiriamo le conclusioni dalla riunione sinodale di oggi mi ditte tutti che è importante mettere la nostra attenzione sulle famiglie ma questo magari è il filtro che io ho applicato se invece ho una serie di provocazioni che mi arrivano dalla rete sono scritte sono registrate la rete ha la prerogativa di nel bene e nel male di cristallizzare delle cose che sono state fatte e dette tant'è vero che poi è difficile togliere qualcosa che io ho pubblicato perché viene diffuso e chi tenta di far togliere dei contenuti e fare una grande fatica allora se i contenuti sono lì io come faccio a non tenerne conto a non ascoltarli e diventa uno strumento importante anche per la sinodalità Alessandro siamo davvero in conclusione un'ultima battuta dove sta andando la comunicazione oggi? Questa è una domanda importante credo che la comunicazione andrà dove saremo in grado di condurla e quando dico saremo in grado di condurla dico tutti a tutti i livelli di responsabilità con tutta la determinazione che saremo in grado di avere per condurre i nostri ragazzi principalmente loro a maggiore consapevolezza e a una conoscenza migliore di tutto quello che ci sta intorno questa è la comunicazione che vorremmo e questa è la comunicazione che ci auguriamo di raggiungere io Alessandro ti ringrazio della tua presenza a nome di tutta la redazione di Segno 7 ringrazio come sempre i telespettatori che ci seguono da casa auguro a tutti una buona serata e arrivederci alla prossima puntata di Segno 7 grazie a tutti grazie a tutti